L'impegno c'è nero su bianco, ora tocca trovare una soluzione perché i problemi in materia di gestione del personale e sicurezza sollevati dai lavoratori dell'azienda ospedaliera di Lecco si risolvano. Davanti al prefetto i vertici dell'azienda ospedaliere, sindacati e rappresentanti degli enti locali si sono seduti e al termine di lungo confronto hanno proclamato la fine dello stato di agitazione. Una scelta presa a fronte della firma di un documento con il quale la direzione generale si impegna a chiedere alla regione Lombardia di sbloccare il turnove del personale e di prendere provvedimenti per tutelare l'incolumità di lavoratori, medici e pazienti come l'istituzione della vigilanza interna 24 ore su 24 attraverso guardie giurate a partire dal prossimo marzo. Per noi un buon risultato, commenta Massimo Coppia della funzione pubblica Will, ora vigileremo perché vengano attuate le nostre richieste. Soddisfatta dell'esito dell'incontro anche la CGL. Un vertice positivo anche secondo la direzione generale. Riprendono le normali relazioni sindacali, questa è la cosa più importante per noi. Peraltro il tavolo per noi dal nostro punto di vista non è mai stato chiuso ed è sempre aperto, ci siamo incontrati già molte volte. Abbiamo raccolto certamente alcune preoccupazioni da parte sindacale che esistono e sono anche peraltro giustificate, particolarmente il periodo invernale ha visto un particolare impegno degli operatori, uno straordinario impegno degli operatori che voglio anche approfittare dell'occasione per ringraziare. Ma certamente i problemi si risolvono confrontandosi, non con le distanze o creando delle barriere. Questo riavvicinamento c'è stato, ne testimoni anche il documento che abbiamo firmato dal prefetto e di questo siamo molto soddisfatti. Speriamo che tutto prosegua al meglio perché l'interesse comune è fare il meglio per i lavoratori alla fine, oltre che per i nostri pazienti naturalmente.